Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video, oggi vi farò il video dell'home tour, tante di voi stavano aspettando questo video ho pulito tutto per cui adesso posso fare l'home tour, quindi vi lascio il video, un bacione, ciao! Allora ragazze, salendo dalle scale, la prima stanza che... allora c'è questa stanza qui però non la apro, è un'altra stanza da letto perché abbiamo un po' di cose messe da parte e è inutile che la apro perché non c'è niente dentro allora questa è la stanza di mio figlio, vi faccio vedere un po' la visione, mio figlio sta ragionando da solo allora questo è il diciamo dove lo cambio, questa è la sua culletta, faccio questo tappetino rotondo insomma e poi le tende e poi c'è queste diciamo cornicette di animali e poi lì c'è il suo armadio, la cabina armadio e adesso uscendo dalla sua stanza andiamo sul fai la città e poi ciò parla come le stai come to shine when it's dark from so far away show us where we are what makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of I wonder Poi qui c'è il magno Il bagno di mio figlio Proprio di fronte alla sua stanza Andando per il corrido Poi qui c'è la biancheria Le tovaglie e le lenzuola Poi Qui c'è la mia lavanderia Dove c'è la lavatrice Qui c'è la lavandina Una lavanderia semplice ragazze Ecco qua Cerco di inquadrarla Tutta insomma Allora Questo è il bagno Che ho nella mia stanza da letto Allora è abbastanza stretto Quindi non riesco a inquadrarlo benissimo C'è perfettamente Andiamo Lì c'era Quello è il tappeto che devo mettere a terra Perché ho lavato a terra E quello è la vasca idromassaggio Insomma Poi qui E' la porta Dove c'è semplicemente il vasso Ragazze E poi Questa Aspettate che chiudo la porta Così vi faccio dire meglio E questa E' la doccia Ecco qua Tutto molto semplice Perché volevo tutto Molto semplice E' il dettaglio del rubinetto In bronzo E poi Questo è il colore del granito Che ho per tutta la casa Insomma Sia per la cucina Che per i bagni Che per i bagni A little bit scared of heights Why does the rain Always keep on pouring down When it's grey outside It really makes me wonder Yeah it makes me wonder It really makes me wonder What wonder Out come the trees Gets untrushed When it's cold And don't they miss the leaves They left behind Could it be To make the ground Shine like cold Until winter comes Until winter comes Until winter comes It really makes me wonder Questa è la mia camera da letto Out come the trees Gets untrushed When it's cold And don't they miss the leaves They left behind Could it be To make the ground Shine like cold Until winter comes Until winter comes Until winter comes It really makes me wonder Yeah it makes me wonder It really makes me wonder Ooh I wonder How come the stars Come to shine When it's dark From so far away And show us where we are It really makes me wonder Yeah it makes me wonder Ooh I wonder Ooh I just wonder It really makes me wonder Allora qui al lato Insomma diciamo Qui c'è il bagno E qui c'è la cabina armadio Non entro Perché non è perfettamente in ordine Quindi Però è molto spaziosa Allora eccoci qua ragazze Questa è la mia entrata Qui c'è la porta Questa panchetta Dove ci si può sedere Per mettere le scarpe Il pavimento qui è diverso Da quello che ho Nel resto della casa E poi qui c'è un tavolo E poi qui c'è semplicemente un tavolino con lo specchio E invece lì c'è praticamente un armadietto Un ripostio dove teniamo le scope e altre cose Qui è la porta che va nel garage Poi ritornando indietro C'è semplicemente il mio bagnetto Che abbiamo qui sotto C'è semplicemente il mio bagno C'è semplicemente il mio bagno Qui Qui ho le scale Che portano sopra E poi Andando verso Qui c'è la porta che porta nel simio interrato Entrando qui C'è la prima porta Che è la stanza dei giochi di mio figlio E poi lì C'è la mia scrivania Ho la sedia da cambiare nel garage Da montare Da tipo due mesi Ancora la devo montare Poi ci giriamo E qui c'è la cucina Qui ho la Diciamo Dove abbiamo il vino E poi Per la mia E poi Che già Questa Vi Diciamo Poi Grazie a tutti Grazie a tutti Qui c'è il tavolo Grazie a tutti E quella è la porta che va nel giardino Insomma Qui c'è il mio divano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti